Presidente, il suo ruolo come Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, come i Comuni potranno utilizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Uno, abbiamo bisogno di avere il personale per svolgere queste funzioni. Negli anni passati questo personale non l'abbiamo avuto. Abbiamo avuto una crisi di personale in ogni campo, dalla polizia locale al personale tecnico che si è dimezzato. Dobbiamo avere questo personale e lo dobbiamo formare, formare in modo tale che sia all'altezza di queste sfide. E ci vuole anche gente giovane, gente che parla il linguaggio digitale. Quindi è una scommessa davvero decisiva. I Comuni oggi possono guidare la fase di ripresa del Paese, quella che abbiamo chiamato un'Italia che rinasce. Ma dobbiamo farlo e per poterlo fare dobbiamo essere in condizione di avere strumenti rapidi, procedure semplificate e dobbiamo essere in grado di avere il personale necessario per raccogliere questa sfida. Una nuova Italia all'orizzonte sarebbe un peccato sprecarla. È il messaggio che lanciamo qui da Parma oggi alla presenza del Capo dello Stato. Grazie Presidente. Un'ultima battuta, le chiedo. Il ruolo del Dipartimento della Funzione pubblica, assieme ai Comuni, per il PNRR? C'è un dialogo costante. Abbiamo finalmente un po' d'attenzione. Possiamo lavorare insieme per avere il personale necessario, per avere le procedure e per avere tutto quello che consente ai comuni di muoversi in modo moderno, senza qualcuno che ti controlla sempre anziché aiutarti a risolvere i problemi. Un clima di collaborazione anziché un clima di sfiducia. È una bella rivoluzione.